30 giorni di fermo biologico consecutivi. Il Ministero per le politiche agricole forestali non ha perso tempo né stabilire i periodi di stoppa alla pesca che in estate riguarderanno tutta la penisola italiana. Sostanzialmente per quanto riguarda il Molise è quasi confermato quanto avvenuto nel 2019 e i pescherici della flottiglia termolese per consentire il ripopolamento dei fondali dell'Adriatico resteranno ancorati in banchina dal 17 agosto al 15 settembre prossimi. Un periodo che sostanzialmente dovrebbe mettere tutti d'accordo e salvaguarda buona parte della stagione balneare dove solitamente vi è un'impegnata di richieste di prodotti ittici a causa dei turisti che affollano il litorale molisano. La tratta interessata al fermo in quel periodo è quella consueta che va da San Benedetto del Tronto nelle Marche e arriva fino a Termoli in Molise. Tuttavia a causa di quanto stabilito dall'Unione Europea nell'anno corrente sembra si possa pescare sempre di meno e questa condizione ha già creato malumori all'interno della categoria. In aggiunta al fermo pesca infatti ci sarà un ulteriore periodo di stop da spalmare durante gli altri mesi dell'anno. Saranno gli armatori interessati a dover stabilire le ulteriori giornate di stop che entro le ore 9 del giorno prescelto dovranno comunicare lo stop alla pesca all'autorità marittima del porto di riferimento. Tutte le giornate aggiuntive dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre del 2020 fermo restando che la pesca resterà interdetta anche nei weekend e nei giorni festivi. Intanto il Parlamento europeo ha concesso per l'Adriatico la pesca delle vongole con taglia minima. Una decisione attesa è che secondo i sindacati di categoria ridarà fiducia al futuro dei lavoratori e delle imprese.